Ho i risultati delle analisi di Mendy. Volevo parlarne con voi prima di aggiornare gli altri. D'accordo. Dunque, le analisi del sangue vanno bene. La gastroscopia va bene. La radiografia dei polmoni risulta negativa. È una buona cosa. Non ci sono infezioni, quindi abbiamo sospeso gli antibiotici, i globuli bianchi nella norma. E poi l'ustione è guarita del tutto. In pratica è un certificato di buona salute. È fantastico. Allora possiamo provare a metterla con Winter, visto che lei adesso… Eise, sto dicendo che Mendy è guarita. Mi sono spiegato. Mendy è completamente guarita. E noi abbiamo l'obbligo di rilasciare. Ma non puoi liberarla, dobbiamo metterla con Winter. È pazzesco. Mi dici che cosa cambia aspettare sei mesi e un anno finché non troviamo un'astratta di Mila Pele. Sei mesi o dieci anni, questo non lo puoi prevedere, Eisele. Ma se Mendy può tornare a casa, non possiamo impedirglielo a noi. Eisele. Eisele. Eisele.